Buongiorno a tutti. Abbiamo assistito finora agli interventi delle opposizioni, abbiamo ascoltato con pazienza e con impazienza i loro discorsi. Abbiamo appreso che i marziani esistono, sono sulla terra nella città di Roma e siedono nei banchi dell'opposizione. Ci hanno raccontato molte storie della loro presunta superiorità. E qual è la presunta superiorità delle opposizioni? L'abbiamo vista all'opera. Abbiamo 13 miliardi di debito commissariale. Lo pagano i cittadini, tutto sulle nostre spalle. Abbiamo aziende con conti allo sfascio che dobbiamo salvare e stiamo salvando e che qualcuno voleva privatizzare. Oggi si travestono da innovatori, cambiano il loro modo di essere, ma non hanno nessuna idea innovativa o costruttiva. Hanno solo vecchi interessi da rappresentare. Dov'è il loro contributo? Sono presuntuosi, poco presenti e alcuni per nulla presenti in Commissione. In Consiglio fanno solo critiche sterili e poco sincere. Il loro contributo è antisociale, seminano il panico tra i lavoratori e generano il malcontento cercandone il consenso. Rinnegano la città che rappresentano per raccontare le loro fiabbe per all'occhi. Dipingono scenari post-atomici della città che dovrebbero amare, di cui dovrebbero vergognarsi. Roma è meravigliosa, è la città più bella del mondo. Loro sono persone tristi e vuote. Ci hanno detto che siamo brutti, saremo brutti fuori e purtroppo ce ne faremo una ragione. Loro sono brutti, bruttissimi dentro. Alcuni suggeriscono di richiedere al governo maggiori fondi per Roma. Ma chi governa il Paese, o meglio, doveva governarlo? Governano loro! Sembra quasi che per cancellare le incapacità di governo dello Stato si voglia sviare l'attenzione verso il Comune di Roma. Invece di destinare fondi, li razionano a Roma e si vogliono fare belli, come fa il Ministro Calenda, con i nostri fondi e progetti, che si è svegliato così, a due mesi fin termine della Consigliatura. Accuse false e ritrite, le loro. Si appropriano del Colosseo e ci regalano solo istruzionismo da parte della Regione dello Stato. Le loro accuse le rispingiamo al mittente. Decisioni calate dall'alto. Noi siamo una democrazia partecipata, nata dai cittadini e che si confronta spesso con i cittadini. Non basta scriverlo nel nome del partito per essere democratici, come per il PD, o patriottici, come per Fratelli d'Italia. O come la lista con Giorgia, che forse dovrebbe cambiare nome in Senza Giorgia, visto che è molto poco presente. Si chiama lista Marchini o lista Manchiamo? Non riesco a capire. Allora, poi c'è la lista Giacchetti sindaco Roma torna a Roma. Almeno chiamiamola lista Giacchetti torna a Roma, perché così lo rivedremo. Forza Italia è solo uno slogan rubato agli Stati, ma poca altra cosa. A sentirli sembra che loro abbiano fatto opere mirabolanti, che quando governavano tutto fosse splendido. Ma noi non abbiamo la memoria corta e neanche i cittadini. Capisco che siano infelici per aver distrutto una città. E ora masticino amaro nel vedere che molte azioni che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti non sono uscite a realizzarle, a causa dei loro dissidi interni e dei conflitti di interesse delle lobby. Lasciamo perdere i marziani delle opposizioni e torniamo sulla terra. Siamo a trattare un bilancio che lo scorso anno è stato votato entro il termine previsto e lo stesso faremo quest'anno, in pareggio e non in debito come in passato. Trasparenza totale degli atti, delle commissioni pubblicate online, streaming del Consigli. Si faceva nelle precedenti amministrazioni? No, non mi risulta. Partecipazione. Abbiamo fatto ad esempio il processo partecipato per la Delibera 30 e per la successiva modifica. Abbiamo parlato con tutti, operatori, associazioni di teoria, cittadini. Abbiamo pubblicato su internet le proposte e abbiamo fatto moltissimi incontri di discussione e delle osservazioni, in commissioni aperte a tutti e dove tutti hanno l'opportunità di contribuire. Abbiamo fatto lo stesso anche per il regolamento dei pittori, che darà a breve i suoi frutti, portando cultura e lavoro in tutta la città. Vogliamo parlare delle partecipate? Abbiamo fatto il riordino. Da 31 a 11, 90 milioni di risparmio. Il salvataggio dell'Atac attraverso il concordato. I partiti, dopo averla gestita malissimo, la volevano privatizzare. Riqualificazione del Tevere, le feste per la città della Befana, Capodanno, l'estate romana, l'espulsione dei pup che nessuno aveva mai voluto toccare, perché era un bellissimo argomento, molto interessante. Nuove ciclabili, maltenzioni per quelle esistenti, nuove opere che non venivano fatte da anni, gli stalli per le biciclette e nuovi autobus. Abbiamo estinti i mutui per cento milioni. Abbiamo organizzato la formula E, perché l'elettrico è il futuro per il momento e riduce l'inquinamento. Uno stadio fatto bene, fatto con opere pubbliche che servono e riducendo le cubature. Riordino dei busturistici, riordino e rilancio del commercio su area pubblica che nessuno aveva dovuto toccare. Aspettiamola a Bolches, aspettiamola per vent'anni, ma nel frattempo non facciamo niente. Concediamo noi i posteggi, chiudiamo gli occhi su queste cose. No, noi ci vogliamo mettere la faccia, noi vogliamo regole, vogliamo che tutto funzioni. Abbiamo fatto il concorsone e assunto nuovi lavoratori di cui il Comune di Roma ha bisogno. Abbiamo riacquisito delle case popolari che persone senza titolo oppure senza diritto avevano avuto, non sappiamo come, e le riassegneremo a chi di diritto. Potrei andare avanti per molto, ma non serve. Sul sito del Comune di Roma trovate la rubrica La sindaca informa. Sono 54 numeri, ciascuno di questi contiene moltissimi interventi ed opere realizzate. E allora quando vi dicono che questa amministrazione non sta facendo, leggete sul sito del Comune di Roma, non vi fidate dei titoli dei giornaletti su Spelacchio e altre cose, informatevi. Una volta l'informazione si faceva leggendo i giornali di sinistra e di destra. Adesso i giornali cartacei sono quasi tutti uguali e l'informazione si deve mutuare sui social e sui siti ufficiali. Roma sta rinascendo passo dopo passo. Possiamo dire che c'è molta confusione tra l'opposizione degli eterni scontenti, questi pessimisti cosmici. Facciamo un esempio divertente. Sì, avete completato e potenziato il piano LED, ma le luci sono fredde, è freddo, volevamo la luce calda noi. Avete liberato Piazzale Appio dopo anni di lavori? Ma non ci sono arredi di pregio. Come mai? Avremmo voluto nuove piante, fioriere? Aggiungete quello che volete. Avete fatto le ciclabili, ma alcune sono senza cordoli. Allora, voi siete come quel fil demenziale della serie La Vallottola spuntata, no? C'è una scena ambientata in un carcere, si alza il carcerato e alza un calice e dice «E questo vino, questo Chateau Leblanc è di ottima annata, è del 68, ma dovrebbe essere servito leggermente freddo e questo è a temperatura ambiente. Perché ci avete preso? per animali? Questi siete voi. A chi millanta competenza, ma ne dimostra pochissima, possiamo dire sinceramente che le aziende mal gestite da decenni hanno bisogno di interventi e non di parole. Voi non li avete fatti e li avete lasciati allo sbando. E in ultimo, avete concentrato l'attenzione del mondo su un albero di Natale, spelacchio. Vi voglio dire una cosa che probabilmente insegnano alle elementari. Un albero di 20-25 anni, quando viene sradicato dal suo ambiente, muore. E stranamente muore. Strano. Forse dovreste saperlo. E facciamo un'analogia. È quello che succede anche nei vostri partiti spelacchiati, dove sono stati sradicati i valori a cui si ispiravano. Lo sapete che è rimasto? È rimasta solo la vostra aridità e la vostra vuota ambizione.